Ciao, oggi vi faccio vedere come fare la polvere di rosmarino. Ho raccolto dei rametti rosmarino freschi e li ho messi al sole a insiccare per 2-3 giorni. Ora li vado a pulire e metto le foglioline del rosmarino dentro una ciotola. Spesso mi faccio regalare questi rametti di rosmarino e dopo averli sciacquati e asciugati tolgo tutti i rametti e li metto così in una ciotola e lo metto in frigorifero per averlo sempre a disposizione. Se rimane diverso tempo in frigorifero anche lì si va a seccare e poi lo possiamo utilizzare per farci la polvere che io uso entrambi sia i rametti freschi che quelli essiccati che quelli in polvere in base alla ricetta. A questo punto prendiamo un macinino e mettiamo le foglioline di rosmarino all'interno. chiudiamo e facciamo andare per un 30 secondi. io uso il 100% di rosmarino all'interno Ed ecco pronta la polvere di rosmarino. Ora la potete riporre in un barattolo e usarla per le vostre ricette. Questo è tutto, ricordatevi di mettere un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao! Grazie a tutti.